La rassegna stampa di oggi, venerdì 29 novembre 2019. Siete sul canale 17 di Fano TV, la rassegna stampa come sempre puntuale alle 7 del mattino in diretta, in replica naturalmente anche nel corso della mattinata e sempre disponibile sui nostri device e sulle pagine social. Cominciamo come sempre dal Santo del Giorno, vediamo se oggi possiamo fare degli auguri per esempio di buono nomastico, tanto è la Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione ma è anche San Saturnino di Cartagine così come tanti altri Santi e Beati che la Chiesa celebra e ricorda ogni giorno. Il sole sorgerà alle 7.19, tramonterà alle 16.34 minuti, il tempo sarà ancora variabile con residue e precipitazioni solo nelle zone appenniniche centrali, i venti saranno ancora forti soprattutto nell'entroterra dove avremo ancora vento di burrasca nelle zone alto collinari. Domani ancora cielo sereno poco nuvoloso, domenica, domenica ci sono tante iniziative di Natale compresa a Fano dove ci sarà l'accensione dell'albero in piazza 20 settembre. Cosa prevede il tempo della protezione civile delle Marche? Bene, tempo sereno poco nuvoloso con temperature massime addirittura in lieve aumento, un po' di venti di brezza tesa dai quadranti meridionali. La formazione di foschie, banchi di nebbie nei fondovalle sarà possibile durante le ore notturne. Poi, attenzione, nei giorni successivi, quindi dopo domenica, c'è l'indebolimento dell'alta pressione che solitamente porta bel tempo, quindi essendoci questo indebolimento ci sarà un possibile transito di una perturbazione a carattere caldo con piogge diffuse nella giornata di lunedì seguita dall'ingresso di aria fredda e secca dai Balcani per la giornata di martedì. Ma a proposito di temperature, anche ieri insomma erano temperature decisamente più primaverili che tardo-autunnali, guardate il quadro della previsione per oggi alle 14, fermo, segnerà circa 19 gradi, quindi quasi 19-20 gradi, osimo 20, anche qua da noi sulla costa 17-18 gradi, quindi sarà ancora una giornata piuttosto gradevole. I giornali che cosa scrivono? Partiamo dal Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro, c'è la cronaca in primo piano con l'eroina, tanta eroina, 300 grammi di cocaina e 6 fiale di metadone che sono state scoperte all'interno di un secchio, dentro un secchio 3 kg di stupefacenti, una scoperta shock, titola così, a Pantano, quartiere di Pesaro. Dopo le armi i carabinieri hanno scovato in via Mancini anche un'officina dello spaccio, ma a centropagina, e lo vedremo anche sul resto del Carlino che dedica a questa notizia tre pagine, la vicenda della Berloni Group che finisce nel peggiore dei modi, anche se ancora c'è una fiammella di speranza accesa. La Berloni Group finisce in liquidazione, i taiwanesi chiudono l'avventura, il sindaco Ricci chiama la dirigenza, oggi davanti ai cancelli dello stabilimento in sciopero gli 85 dipendenti. Uno sguardo anche alle prime pagine del resto del Carlino di Ancona e Macerata, queste Ancona insultati perché neri, un arbitro e i giocatori nel mirino di alcuni spettatori, dalla tribuna sono volati cori razzisti, arriva la multa. Questa è la formazione fabrianese di calcio a 5, atletico no borders. Ma il titolo è anche per la cronaca con la vicenda terribile di questa violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 12 anni, preso prima di violentare il 12enne. Il bengalese arrestato agli archi, trovato nudo nella cameretta della figlia di alcuni amici, lei è ancora sotto shock. Questa invece è Macerata, il gioiello ritrovato, la fotonotizia, ovvero l'inaugurazione della nuova biblioteca intitolata Mozzi Borgetti, mentre sono state licenziate otto maestre senza laurea, respinti i ricorsi dopo la sentenza del Consiglio di Stato, lo SNALS dice in 100 rischiano la cattedra. Mentre a Civitanova un professore contesta l'Associazione Nazionale dei Partigiani a scuola e scoppia la lite sul nazifascismo. Berloni chiude, lo storico marchio rischia di sparire, dramma per 85 operai. Il resto del carino ha scelto questa mattina di pubblicare, non a caso, ovviamente una foto di un picchetto che si fece nel 2013, al tempo dell'ingresso dei taiwanesi. Un po' come dire, gli operai probabilmente ci avevano visto giusto, avevano visto probabilmente lontano, anche perché quella volta si discuteva sul fatto invece di poterla cedere ad una società di San Marino e non agli asiatici. Garage imbottito di eroina, 3 kg, fabbrica dello sballo in via Mancini, maxi sequestro, è lo stesso locale in cui sono state trovate alcune pistole. E poi la procura che prosegue le indagini, ha chiuso le indagini, scusate, sul cardiologo a luci rosse, ha toccato 12 donne e quindi chiesto per lui il rinvio a giudizio. Mentre tre persone, tre minorenni, sono finiti nei guai per aver rubato un computer, un pc, alla professoressa. Questo fatto è avvenuto a Fano. Si parla anche della raccolta per i poveri della colletta alimentare che parte domani, coinvolte anche la squadra della Vis e del Pesaro Rugby. A Fermignano invece il centrodestra si astiene sulla cittadinanza a Liliana Segre. Ma vedremo, è anche Fermignano in compagnia di un'altra città, Macerata. Lo vedremo tra poco. Andiamo a vedere adesso le pagine che parlano di questa triste vicenda che riguarda un storico marchio pesarese, ovvero la Cucine Berloni. Finisce in liquidazione, subito il picchetto. Ieri c'è stata una videoconferenza drammatica, quella che c'è stata nella mattinata che riguardava appunto il futuro della Berloni Cucina. 85 dipendenti, 19 milioni di fatturato, due dei tre soci taiwanesi e quindi la maggioranza del pacchetto di controllo della fabbrica hanno deciso di mettere in liquidazione la società. Un terzo socio ha chiesto invece un rinvio, ha annunciato un incontro nella notte proprio a Taiwan con gli altri due industriali asiatici per vedere e capire se è possibile, dopo cinque anni di sforzi e investimenti di circa 35 milioni di euro, è possibile ricomporre la situazione e quindi riprendere per i capelli una società che rischia di morire mettendo in mezzo alla strada 85 persone. Intanto vi ricordo che questa mattina alle 9.30 i dipendenti con il sindaco di Pesaro in testa terranno un picchetto appunto davanti agli stabilimenti di chiusa di Ginestreto. L'altra pagina, le tappe di questa storica azienda che nasce nel 1960, infatti la Berloni viene fondata a Pesaro dai fratelli Antonio e Marcello, produce cucine, poi anche mobili per ufficio e poi per alberghi. Gli anni 80 e gli anni 90 sono gli anni della grande ricchezza. L'azienda arriva ad assumere fino a 370 dipendenti, 200 milioni di fatturato. Nel 2013 però arriva la crisi e qui la Berloni cede rami d'azienda. 2014, l'anno dopo, subentrano tre soci taiwanesi, a loro va il 99% delle quote societarie. Siamo al 2019, storia di oggi, 19 milioni di fatturato, quindi c'è un segno più rispetto al passato, più 20% sul 2017, a 85 dipendenti. Però da ieri è in liquidazione. Nella fotografia i due fratelli Antonio e Marcello. Un fulmine a ciel sereno, dice il sindaco Ricci, salvare il marchio sono le reazioni a caldo. Voglio capire che cosa è successo, ma c'è anche il presidente degli industriali, Mauro Papalini, che dice è un peccato, sono sconcertato, dice Ricci, convocherò un incontro coinvolgendo anche la regione. Pesaro Shock, Berloni in liquidazione, titola così il Corriere Adriatico, chiude lo storico marchio delle cucine, 85 dipendenti, ad un passo dalla mobilità. La cronaca, tre chili di eroina nel secchio, ecco la fotografia, l'officina della droga in garage, a Pantano, nella scoperta dei carabinieri di Cattolica in via Mancini, dopo le pistole ritrovate l'altro giorno in un vicino box auto, nella rimessa adibita al laboratorio, c'erano anche 300 grammi di cocaina e metadone, stimati a fare per circa 200 mila euro. E questa fabbrica dello sballo fa paura, nel quartiere di Pantano i sequestri di armi e droga rilanciano il tema della sicurezza, siamo vicini alle zone dello spaccio, più telecamere e una maggiore sorveglianza. Mentre c'è il racconto di attimi di paura per tre anziani che ieri mattina alle 9.15 sono saliti su un ascensore dal quarto piano, dovevano scendere a piano terra, però a un certo punto si è bloccata. Tra loro c'era anche una persona non vedente, tutti portati fuori dai vigili del fuoco. Donna si accascia vicino al Miralfiore, ancora cronaca, una donna di 40 anni che era uscita da tempo da una comunità per tossicodipendenti che è finita in overdose l'altro ieri al parco di Pesaro. La donna che doveva prendere il treno per rientrare verso casa sua si è sentita male dopo essersi iniettata eroina, scivolata a terra senza dare segni di vita ed è stata soccorsa dal 118. Ma c'è anche la notizia di un processo che vede imputato un 44enne svizzero che è finito sotto processo a Pesaro per aver contattato tre bambine, una di 9 anni, le altre due di 13, attraverso Messenger, scambiando con loro delle foto e dei video hard, inducendo le bambine a denudarsi davanti alla videocamera del loro computer. Tutto questo accadeva nel 2010. Dell'imputato però non c'è traccia. Palpeggiava le pazienti. Qui andiamo a Sasso Corvaro. Ho fatto un gran clamore la notizia, quella volta, nel 2018, quando è stato arrestato nell'ambulatorio dove visitava le pazienti il cardiologo Valentino Ferri, 68 anni di Peglio, che durante le visite mediche per l'idoneità sportiva palpeggiava nelle parti intime le pazienti, camuffando quei gesti come pratiche indispensabili per valutare il battito cardiaco. Ora, la Procura della Repubblica di Urbino, coordinata dal PM Irene Lilliu, ha appena chiesto il rinvio a giudizio del medico. L'udienza è fissata per il 28 gennaio del 2020. Come modus operandi, infilava la mano sotto i pantaloni o sotto gli slip della donna con gesto subdolo e repentino in modo da prevenire qualsiasi manifestazione di dissenso, costringendo la donna a subire l'accarezzamento del pube. Ovviamente i carabinieri, quando sono stati avvisati da una delle pazienti, hanno subito installato le telecamere e i filmati sono stati sottoposti a controllo. Soprattutto hanno chiesto, giustamente quelli della Procura, ad un altro medico se questa operazione, se questo modo di operare fosse corretto ed è venuto fuori, insomma, che la manina andava dove non doveva andare. È stata la mamma di una minorenna ad accorgersi che quel medico non stava facendo esattamente il suo dovere. L'ultima riunione con il don direttore, stiamo parlando dell'ultima riunione in chiesa, in Duomo, dove a Pesaro è stato salutato per l'ultima volta il prete giornalista Don Raffaele Mazzoli, il fondatore del Nuovo Amico per decenni, ha guidato questo settimanale interdiocesano l'omaggio dei suoi fedeli e della città di Pesaro. L'arcivescovo Coccia ha detto durante l'omelia nella categoria dei giusti c'è lui, uomo dotato di fede laboriosa. Poi la Valle del Cesano, pubblica la foto e la notizia di un altro giornalista deceduto, morto Peppe Binotti, storica firma del giornalismo sportivo e politico, si è spento all'ospedale di Fano dove era ricoverato da sabato scorso, il 4 dicembre avrebbe compiuto 80 anni. Ha raccontato, Giuseppe Binotti, ha raccontato le vicende belle e brutte della Viz Pesaro per esempio, ma ha parlato anche di politica, ha parlato del suo territorio che passava da Pergola fino a Marotta, Valle del Cesano. L'ultima volta che l'ho visto era al bar a Marotta e stava facendo colazione. Alla famiglia naturalmente, le condoglianze anche di tutta la redazione di Fano TV. Ragazzino caduto dal tetto, indaga la Procura, una tragedia sfiorata all'Ocean di Ancona, aperto un fascicolo per lesioni colpose contro ignoti. Il tetto in plexiglass era in sicurezza, l'aria era interdetta oppure no. Il PM Pucilli ha disposto accertamenti tecnici nel punto dell'incidente. Chiaramente il ragazzino era dove non doveva stare e soprattutto ha fatto ciò che non avrebbe dovuto fare. Il resto non penso che ci sia tanto da discutere. Ceriscioli contro il governo pronti a manifestare. Il governatore ipotizza iniziative di protesta. Il decreto sisma era da rafforzare, ma hanno respinto tutto quanto. Gostoli, che è il segretario regionale del PD, lì c'è solo uno sfogo e comunque una polemica che rimane accesa o forse si sta accendendo in queste ore tutta all'interno del Partito Democratico, dove praticamente ormai si parla apertamente senza neanche troppo camuffare le dichiarazioni. E dunque si dovevano fare altre scelte, dice Ceriscioli, per rendere i tempi più brevi. I tempi sono quelli della ricostruzione delle città e dei paesi terremotati. Abbiamo fatto quello che era promesso. Ma non accetta certe critiche la sottosegretaria Alessia Morani, anche lei dello stesso partito di Ceriscioli. Appena insediata al governo ho fatto, dice lei, un incontro in regione proprio con Ceriscioli e con il presidente Marcolini e con tutti gli attori economici marchigiani in cui ho preso l'impegno di portare a casa risorse per l'economia dei territori terremotati da utilizzare attraverso contratti di sviluppo sul modello dell'Aquila 2009. E anche sul Corriere Adriatico sisma. Il decreto legge avanza alla Camera, Ceriscioli dice non basta, Agostoli eccessivo. Il segretario regionale del PD tenta di frenare il governatore, il sottosegretario Morani lo bacchetta, ma lui non molla. Ricordiamoci che ci sono le elezioni. Ma tra l'altro vi ricordo che questa sera nel telegiornale potrete ascoltare il presidente Ceriscioli, ci raggiungerà qui nello studio di Fano TV proprio per parlare anche del tema del terremoto. Per quanto riguarda la cittadinanza onoraria, abbiamo visto poco fa Fermignano che in qualche modo ha detto no, ma anche Macerata dice no alla cittadinanza onoraria alla Segre. L'ultimo schiaffo arriva appunto da Macerata. Saltano consiglio e cittadinanza onoraria, ordine del giorno last minute e due sedute slittate in 48 ore senza numero legale. La figuraccia è servita, ma subito tra presenti e assenti pronti a dire noi siamo favorevoli, ma è la sinistra dover garantire il numero legale, cioè Renna di Fratelli d'Italia e il sindaco Carancini dice sono cose che possono accadere, non ci sono dissidi, li abbiamo rinviato perché eravamo impegnati ad inaugurare la biblioteca. Sui treni arriva la svolta per le tratte regionali, restyling dei convogli. Oggi la firma del contratto di servizio atteso da anni, la Regione ha messo a bilancio 18 milioni di euro in extremis. Dunque ci sono queste risorse regionali, 18 milioni inseriti con l'assestamento di bilancio, di cui 7 milioni arrivano dall'edilizia sanitaria, non utilizzabili, 11 milioni dalle risorse per il trasporto pubblico locale che presto saranno rintegrate dai fondi statali. Di gestore, siamo alla pagina di Fano, scintille e polemica in Consiglio. Ad assistere c'è stato, c'era tanta gente, un folto pubblico, come vedete dalla fotografia, in primo piano c'è anche, in questa foto, Davide Del Vecchio, ex consigliere dell'Udc, che si sta abbattendo per evitare che venga costruito a Bellocchi oppure a Falcineto di Fano questo imponente imponente di gestore anaerobico, centro-sinistra unita nel voto contro la mozione della Lega, ma spaccato sulla scelta del luogo dove costruire questo di gestore anaerobico. Il centro-sinistra dunque vota contro la Lega, ma fa dei distinguo sul dove costruire. Scintille che ci sono state ieri di fronte al numeroso pubblico, avete detto tutto il contrario di tutto, è stata l'accusa mossa dall'opposizione alla maggioranza, nessuna divisione invece ha replicato il sindaco Massimo Seri, solo una discussione aperta, ribadito dal primo cittadino l'interesse del territorio ad avere il di gestore. è strategico che sia realizzato da Aset, benvenga se l'azienda riesce a fare l'investimento da sola. Secondo il sindaco non ci sono decisioni già prese ed è ancora tutto da decidere. Preferirei si facesse a Fano, ma se non si trova la sintesi sulla nostra città va bene anche nella zona, anche in una zona limitrofa. Ieri comunque si è consumata una durissima polemica politica all'interno della maggioranza. Nolfi, parliamo di scuola, siamo sempre sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, Seri punta su Palazzo Petrucci, anche i Cinque Stelle appoggiano la scelta, condivisa la richiesta rivolta alla provincia di concentrare gli investimenti per ristrutturare i locali e questi sono i locali. Questo è Palazzo Petrucci in Via Nolfi per Seri dovrebbe ospitare le aule dell'istituto che porta proprio il nome di questa via. Rubano il computer della Prof, denunciati tre minorenni, sono stati incastrati dalle telecamere in un bar del centro storico, l'avevano già formattato, quindi avevano già resettato tutto, era come nuovo praticamente. e quindi adesso dovranno rispondere di questa bravata. Vogliamo la scuola media a San Lazzaro, siamo sempre sulla pagina di Fano del Corriere, partita la raccolta di firme per invitare il Comune a realizzare una secondaria di primo grado nel quartiere. Nello scorso fine settimana raccolte già 500 adesioni, adesioni penazzi del gruppo promotore, dice l'obiettivo però è di raccoglierne almeno 5.000 di queste firme. E il Black Friday apre invece il venerdì nero, quello degli sconti, apre la pagina del carrino di Fano, Black Friday che contagia la città, un mare di sconti, ribassi e offerte ghiotte. Aufreiter saluta la città, dice tornerò il direttore della Galleria Nazionale delle Marche in consiglio, dice con me più 40% dei visitatori, al suo posto ad Interim arriva Marco Pierini, la targa del sindaco Gambini, vedete in questa cerimonia di commiato, il Dem Rosati, la giunta dovrebbe chiedergli scusa, i ringraziamenti bipartisan e delle guide turistiche dopo 4 anni di lavoro e innovazioni. Cangini invece lascia Gambini, l'ex consigliere della Lega, rimetto il mio incarico e la presidenza in commissione. Petra Aufreiter lascia Urbino fra gli applausi, ieri il direttore era in consiglio comunale, città bellissima, dice lui, con tante potenzialità ancora da sviluppare. Ma c'è la notizia che salta il raduno delle sardine a Urbino, un flash mob dunque rinviato a data da destinarsi, prima mancavano i permessi, poi si andava ad accavallare con quello organizzato a Pesaro, su Facebook dunque gli organizzatori che già avevano raccolto circa un migliaio di adesioni hanno deciso di annullare e comunque di posticipare a data da destinarsi questa manifestazione delle sardine a Urbino. Codice rosso a Senigallia, indagini più veloci e maggiori tutele per le vittime, l'appello dei carabinieri, fondamentale denunciare ogni episodio per interrompere l'odio. Sapete, il codice rosso viene attivato laddove ci sono situazioni di pericolo e di violenza per le donne. Una donna guida la compagnia di Senigallia, l'attività repressiva è costante. All'Uvione è chiesto il processo per otto persone, ci sono anche il sindaco Mangialardi e la Angeloni, decisione del GUP l'11 dicembre dopo le arringhe dei difensori, tra i reati contestati anche il disastro colposo. Sul ponte 2 giugno balaustra bassa e colore bianco raggiunta l'intesa tra comune e consorzio di bonifica l'opera finanziata dalla regione darà subito dunque il via ai lavori. Dunque non più il ponte simile a quello che si può vedere anche a Fano sia all'Arzilla che sul porto canale con quelle due arcate che si aprivano a ventaglio bensì una balaustra molto più contenuta e più bassa. Una luce bianca invece a Corinaldo il comune di Corinaldo ha scelto di tenere un profilo basso però senza ignorare una data che ha segnato per sempre la città dove si trovava appunto la discoteca in cui quella maledetta notte persero la vita sei persone. Per questo sabato 7 dicembre dal tramonto fino all'alba chi vorrà potrà arricarsi in piazza a Corinaldo per un pensiero una preghiera un ricordo per tutta la notte poi sarà acceso un faro puntato verso il cielo un simbolo luminoso e di speranza nel cuore della comunità corinaldese. Chiudiamo con la pagina della Valle Metauro un magico Natale un'iniziativa a Fossombrone per rianimare il corso il patto diventi la vetrina per il futuro il sindaco Bonci punta sulle sinergie eventi a sorpresa agevolazioni e due nuovi uffici comunali a pian terreno e questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata e vi ricordo questa sera il telegiornale delle 20 e 30 e il numero per le vostre segnalazioni grazie a voi tutti per l'attenzione e buona giornata grazie a tutti